Fermati dai carabinieri, due esperti truffatori che erano riusciti a trarre in inganno anche esperti gioiellieri ed erano soliti operare con la tecnica del porta-porta. La coppia, un 75enne di Castel San Pietro e un 56enne di Bologna, è stata fermata dai militari di Foniano mentre a bordo della propria auto, una Fiat 1, si aggirava per le abitazioni in modo sospetto. Fermati da una pattuglia in servizio per contrastare i furti nelle case, i due uomini hanno da subito creato perplessità negli agenti. Il 75enne alla guida dell'auto è infatti risultato in realtà senza patente, revocata, ed a un controllo nella banca dati ha evidenziato una serie di precedenti contro il patrimonio e legati alla falsificazione. Stesso curriculum per il compagno e persino l'auto era abbondantemente segnalata nella banca dati penale, registrata come veicolo da confiscare su ordine della Corte di Appello di Bologna, poiché utilizzata esclusivamente per commettere reati e intestata un prestanome bolognese già nei guai con la giustizia. Inoltre aveva una serie di contrassegni falsi. I carabinieri sono così passati alla perquisizione dei due uomini e del mezzo, rinvenendo gioielli perfettamente taroccati con un timbro di una nota gioielleria forlivese e numerosi altri bracciali e catene da falsificare. Dalle verifiche effettuate sui monili, tutti i pezzi sono risultati realizzati con comune acciaio inox, nonostante la perfetta falsificazione. I due uomini sono quindi stati denunciati a piede libero per recettazione e commercio di prodotti con segni falsi e il 75enne, inoltre, per guida con patente revocata e falsità in scrittura privata. Ricostruendo le mosse dei due trofatori, si è così appurato che i due erano riusciti ad ingannare un gioielliere col quale avevano scambiato preziosi per il valore di 1000 euro, ma fortunatamente non avevano avuto altrettanta fortuna con i vari cittadini che avevano respinto la lusinghiera proposta grazie ad una buona dose di diffidenza. Federico Lega per Offenza Web TV